Lo voglio tanto bene lui, c'è una persona che ha fatto un gesto per me che non mi posso mai dimenticare. Io ero a Napoli, lui fece questo gesto, io guarda, a volte il destino, dicono che il destino di ognuno di noi è scritto, no? Io quando lui ha fatto questo gesto per me, io, perché l'attenzione, magari avendo una squadra importante come Napoli, per dare dei soldi per comprarmi le scarpe, cioè, è un gesto che non apprezzo. Quindi io, quando lui mi ha chiamato dal Genova che mi voleva al Torino, ho detto subito sì, e volevo ricambiare quello che ha fatto lui per me. Avevo una voglia e una fame incredibile.